buongiorno sono maria teresa giaveri sono una studiosa e una lettrice appassionata di letteratura e sono qui per festeggiare per presentarmi soprattutto per festeggiare l'uscita di un bellissimo libro e cioè la riedizione la nuova edizione perdono della vita di vittorio alfieri che esce per i tipi di feltrinelli che è uscita a fine novembre per i tipi di feltrinelli con una bella veste grafica tipografica un bel formato la bella carta e una preziosa curatela della persona che meglio conosce vittorio alfieri direi cioè carla forno per la forno è la direttrice del centro di studi nazionali alfieri anni adesso fondazione alfieri di asti e di vittorio alfieri conosce tutto da quando ha cominciato occupandosi dell'edizione nazionale delle opere alfieri ane a quando ha poi seguito la vita del centro alfieriano conosce la casa dell'alfieri la biblioteca l'archivio la corrispondenza le opere alfieriane ovviamente tutta la bibliografia di coloro che si sono occupati dell'alfieri e forse anche alcuni segreti nell'alfieri e porta la sua competenza ad illustrarci questa vita questa bellissima vita secondo me è la più bella autobiografia della letteratura italiana del settecento all'illustrarci questa vita anche in alcuni aspetti che altre edizioni magari scolastiche avevano preferito un po velare quindi ci racconta attraverso un ricco apparato di note e una biografia una bibliografia finale ci racconta tutto quello che vogliamo sapere in più della vita di vittorio alfieri d'asti scritta da esso come l'aveva intitolato ecco volevo dire perché amo la vita di vittorio alfieri per me è stato un piacere la scoperta è un piacere la rilettura perché in questa letteratura del settecento che è una letteratura ariosa è una letteratura di uomini che si muovono che passano da un paese all'altro da un impero uno staterello da un cavallo a un cavallo da un castello a un bordello uomini come goldoni ma come da ponte che attraversa l'oceano ma come casanova che hanno questa velocità anche nella scrittura questo piacere di raccontarci le cose senza troppo soffermarsi nelle descrizioni ma sempre un po inquieti andando guardando l'orizzonte andando verso l'orizzonte ecco in questa letteratura così mobile del settecento secondo me la vita della fieri è il più bel testo sicuramente della letteratura italiana è uno dei tre o quattro grandissimi di tutta la letteratura e quindi è un testo che io amo molto e che avrei voglia di consigliare quando qualcuno mi dice ma con come cominciare con questo autore di solito me lo chiedo per valeri perché io l'etichetta di studiosa di valeri ma per al fieri come cominceresti e direi con la vita però la persona più indicata è carla forno e che l'autrice di questo bellissimo bellissima curatela in questo bellissimo libro e a lei che dobbiamo domandare che cosa porta questa nuova edizione della vita di al fieri che cosa può portare a chi l'alfieri già lo conosce e a chi invece la fieri non lo conosce al massimo ha letto una pagina quando andava a scuola nella terza liceo che cosa si potrebbe rispondere allora io saluto il pubblico e saluto la professoressa giaveri la ringrazio per la gentile appassionata introduzione allora è molto opportuna la distinzione un libro si rivolge sempre a tanti pubblici quindi per il pubblico che già possiede una conoscenza di al fieri allora l'ambizione se vogliamo l'impegno di questo lavoro spero di almeno in parte di aver ottenuto appunto lo scopo era quello di porre in evidenza come l'autobiografia sia essenzialmente un romanzo quindi sia letteratura sia finzione letteraria quindi un'altra realtà e questo gioco del doppio che consente di che fa sì insomma che la l'approccio all'opera quella lettura delle pagine possa mantenere in filigrana la lettura di altri testi che sono in qualche modo complementari i ricordi di al fieri sono filtrati passati attraverso il filtro restituiti attraverso il filtro del ricordo però c'è uno scarto evidente rispetto al rapporto con gli altri generi letterali con le altre opere dello stesso genere letterario con le altre autobiografie dell'epoca un genere di moda e soprattutto gli eventi narrati di al fieri appunto filtrati dalla memoria e anche dalla memoria del vissuto anche dalla memoria letteraria sono tendenzialmente posti in relazione ad altra documentazione che può essere quella per esempio dell'epistolario delle lettere dello stesso al fieri delle lettere di contemporanei delle lettere incredibili sorprendenti di un servo per esempio il servo il servo elia le lettere non quindi di un letterato e di un poeta ma di un servo che raccontano e riprendono episodi della vita narrati da un'altra prospettiva quella appunto vista dal basso del servo che sono in alcune veramente in alcune situazioni complementari o documenti di archivio estremamente interessanti che spalancano al di là della come sfondo alla scrittura rispetto alla scrittura di al fieri appunto la ricostruzione letteraria del vissuto quelle che veramente erano le condizioni di vita dell'epoca la situazione della famiglia del palazzo soprattutto circa i ricordi giovanili per esempio la prima epoca la seconda epoca l'adolescenza l'infanzia l'adolescenza quelle che per lo più insomma scorrono con scarni apparati di note nelle edizioni commentate della vita poi per quanto riguarda questo per quanto riguarda i lettori che già appunto il pubblico che già conosce il l'intellettuale il poeta al fieri naturalmente rivolgendosi poi a un pubblico che sia il primo incontro ritengo che l'autobiografia sia esemplare per suggerire un'immagine che può racchiudere la personalità di al fieri a mio avviso cioè una personalità prismatica pensando dal fieri si pensa un prisma è un autore che è stato è un classico veramente perché benché sia necessario contestualizzarlo nella sua epoca è stato letto interpretato frainteso strumentalizzato poi nel corso dell'ottocento e del e del novecento però soprattutto eh è un'opera che suggerisce appunto questa straordinaria fronte di questa tendenza all'autobiografismo perché questa è un'autobiografia però il fieri parla incessantemente di sé anche laddove non è così evidente è così eh immediato immediato coglierlo e eh e nella vita eh si si riassumono eh un po' le si riassume un po' la contraddizione eh emerge questa personalità in in dialettica in antagonismo spesso col suo tempo e eh e questa personalità contraddittoria che riassume un po' le contraddizioni del secolo un secolo che noi schematizziamo in salotti minuetti cioccolata botteghe del caffè ma che è il secolo delle grandi rivoluzioni dove quindi scorre molto sangue c'è molta violenza e Alfieri e la lettura delle pagine della vita sicuramente introduce il lettore all'inco alla comprensione di questa complessità e di questo e di questo agonismo di Alfieri rispetto al potere rispetto alla realtà che è la realtà che viene via via confrontando rispetto anche agli autori con i quali si pone in relazione eh perché Alfieri ovviamente è un lettore accanito e come scrittore eh si pone in dialettica e spesso in antagonismo con le con le proprie fonti per concludere breve sintesi ritengo che forse dalla vita un lettore non ancora attrezzato potrebbe ricavare un primo paradigma nel quale riassumere la personalità di Alfieri con parole chiave malinconia bollore della gioventù perché questa metafora del bollore della passione della gioventù viaggio lingua ironia e disinganno eh ovviamente illusione al bollore delle passioni subentra poi il disinganno che è la cifra degli ultimi anni insomma della della personalità umana e letteraria del dell'uomo e del poeta è un gruppo di parole bellissimo preziosissimo io vorrei aggiungere l'incipit perché per me ecco dicevo che uno dei dei più belli gli esempi di autobiografia ma l'incipit per me è il più bello in assoluto da quando hanno cominciato a fare le autobiografie i re assiri babilonesi fino ai alla ondata autobiografica dopo gli anni sessanta vorrei leggervi la prima frase di Alfieri il parlare è molto più lo scrivere di se stesso nasce senza dubbio dal molto amor di se stesso c'è in questo incipit c'è già una delle delle degli elementi geniali dell'autobiografia e cioè il fatto di io so che è un piacere per me raccontare di me stesso anche raccontando di episodi di periodi verso i quali volgo uno sguardo corrucciato epoca di dissolutezza epoca di ignoranza imbarbarimento e così via c'è questo gioco di tipo autoironico c'è questo sottile elemento direi quasi inatteso per un lettore che non è ad uso all'alfieri comico a volte che tiene le distanze per cui lui è nella sua vita ma contemporaneamente ci sta raccontando che lui sa benissimo che c'è un piacere un enorme piacere adesso direi monarcisistico nel settecento usavano un altro lessico nel parlare e soprattutto nello scrivere di se stessi che cosa che cosa possiamo dire a proposito di questo elemento un elemento fondamentale c'è stata la chiave che la professoressa già verrà pronunciato che è stata quella distanza perché indubbiamente nel gioco del doppio per cui l'autore dice io e il personaggio nella pagina dell'autobiografia dice io e i due si sovrappongono c'è un gioco di di distanze no che mutano in alcune in alcune situazioni davvero alcune situazioni chiave il ricordo folgorante del pianto incontrando la sorella divisi due ragazzini dalla grata di un convento ecco quello è un momento di sincerità in cui eh si sbriciola l'ingrediente della finzione e e è un'emozione che poi torna anche perché da quell'emozione scaturisce una riflessione molto profonda le radici dell'amore a prescindere dal dalle varie forme dai vari volti dell'amore sono eh sono si ripetono nella vita ritornano cambiano l'età ma le emozioni restano nel profondo radicate in noi no quindi in quel momento non c'è finzione in altre situazioni invece c'è una distanza c'è proprio il filtro del ricordo o il filtro ehm il filtro anche eh a volte della fonte letteraria alla quale Alfieri rimanda che fanno sì che ci sia ci sia questo guardarsi dal di fuori e questa distanza diventi anche una lente autoironica che eh fa sì che l'autore ehm insomma eh manifesta la capacità di non prendersi sul serio anzi di suggerire al lettore questa chiave di lettura che è poi una scelta anche questa molto profonda e dal punto di vista letterario e e programmatico e di poetica influenza molto l'opera perché insomma Alfieri aveva dei modelli ben ben consapevole dei modelli eh l'autobiografia confessione che aveva eh ha avuto i suoi esordi con Agostino e poi con Petrarca ma che anche aveva attuale con Rousseau non presupponeva eh non non richiedeva questo ingrediente e anche il memoir alla la Goldoni in qualche modo anzi tendeva alla proliferazione del ricordo no che in qualche modo eh documentasse l'azione le conquiste l'affermazione professionale dell'autore invece Alfieri racconta effettivamente una vita e una vita che si costruisce che non è un percorso rettilineo eh una vita che quindi ha dei ritorni a delle a delle involuzioni a delle cadute a delle riprese a delle scelte presuppone delle scelte delle svolte e questo e questo è reso appunto mirabilmente attraverso questa lente dell'ironia quindi della distanza del guardarsi e del volersi far guardare dal lettore eh in questa luce ecco non so se ho risposto eh alla appunto alla sollecitazione riuscita alla domanda eh in modo sufficiente. Io aggiungerei eh come elemento appunto ironico a volte autironico eccetera eccetera un certo uso della lingua poiché eh è una vita ma è una vita di un uomo che si è costruito praticamente da niente parto da da un altro scrittore di la faccio tabula rasa e mi ricostruisco come se si come si on pouvesse battir sua mema come se ci si potesse costruire da soli e molti autori una un po' l'impressione che facciano così a partire da una grande delusione letteraria o personale a partire da un oppure come percorso ricostruirsi altro rispetto a quello che i dati storici biografici ti hanno dato e lui si costruisce e si costruisce innanzitutto attraverso la costruzione di una lingua che è lo strumento per essere e per pensare io trovo bellissima la lingua della vita è ironica è sfiziosa è movimentata è teatrale non ci sono soltanto quello che voi italianisti chiamate gli alfierismi e cioè queste parole nuove o costruite su modelli francesi o costruite o appunto inventate o frutto della della volta del del disdegno del disgusto della rabbia dell'affetto ma non ci sono solo queste parole che che sono molte volte davvero divertentissime ma è tutto l'allure della della frase c'è il ritmo c'è l'uso del mano del del diminutivo dell'accrescitivo che rende la frase che accompagna un gesto che rende la fase in qualche modo stilisticamente visibile ai nostri occhi e sappiamo che lui la lingua se la costruisce cioè lui si costruisce lui parte da un più o meno dialetto più o meno francese e si costruisce l'italiano e si costruisce il greco e il latino le lingue classiche che non gli sono state date dalla cultura che che ha appreso e si costruisce degli strumenti per pensare e per scrivere tanto che potrà dire che lui la vita l'ha buttata giù così con una scrittura di getto secondo un po devo dire l'abitudine degli scrittori di diari o anche a volte di autobiografie che è un po una convenzione scrivo di getto scrivo quel che mi detta il cuore e così via comunque può dire che la scritta di getto perché è già diventato è già un grande scrittore ed è come il calligrafo cinese di cui parlava ma allarme un solo gesto e quello che fa è la perfezione calligrafica una frase buttata lì nell'empito della passione ed è già un piccolo capolavoro stilistico sulla lingua dell'alfiere che cosa potrebbe dire invece una studiosa un'italianista una filologa davvero davvero che si è che si è che si è chinata su questi su questi testi come carla forno ma allora gli spunti sono molteplici mi ricollego al discorso precedente quello appunto sull'ironia che è una cifra è una cifra fondamentale della personalità intellettuale di al fieri e che anche influenza profondamente avrà molto peso nelle nel rapporto di al fieri a livello stilistico e a livello stilistico nel senso più ampio quindi anche in questa conquista di una lingua da da costruire da scolpire e da rendere efficace nelle diverse soluzioni declinata a seconda dei generi nei quali appunto con i quali al fieri si confronta allora l'alfieri al fieri in quanto nobile piemontese appunto in possesso del dialetto piemontese e del francese inizia a sciccherare come come appunto per usare il suo termine quindi insomma anche in senso riduttivo comunque a stendere le prime i primi versi della prima tragedia la cleopatra o le prime pagine di un diario effettivamente un diario giovanile importantissimo per comprendere le radici anche della sua formazione francese ecco perché la lingua è un bagaglio non è solo lo strumento linguistico comunicativo ma lingua è una cultura è un mondo di letture l'alfieri francofono e l'alfieri che ha la profonda che viaggiava con bauli di libri di autori francesi in carrozza era il bambino che poteva avere accesso alla biblioteca del padre morto appunto prima che lui compisse un anno ma noi sappiamo dai documenti di archivio che non era la biblioteca di monaldo leopardi nella biblioteca di un intellettuale alla biblioteca di un nobile piemontese di metà settecento nella quale comparivano esclusivamente testi in francese e determinate autori no quindi è una visione del mondo e in quella visione del mondo al fieri attua le prime i primi le prime cesure no ci sono e spezza quella quella coerenza di formazione già ad esempio appunto introducendo la chiave di scrittura satirica giovanile primi scritti di al fieri quello che ancora precede la cleopatra come prima tragedia è un giudizio universale in francese ambientato a torino in una corte che che è rispecchiamento ribaltamento della corte del savoi dei savoi a satira dell'ambiente nobiliare aristocratico della corte un gioco di travestimento e di smascheramento che poi insomma è anche fortemente influenzato da da quelle che sono quella che è la formazione massonica insomma dei giovani amici che frequentano il suo salotto quindi in quel momento però il modello la lingua francese significa soprattutto anche se nel diario ramonte in 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 quel in quel contesto è volter e ed è qui quindi si si legano dimensione satirica e scelta poetica e ideologica anche di un autore e di un di una chiave di scrittura satirica il fatto di scegliere poi l'italiano e sarà uno studio matto e disperatissimo come quello di leopardi in altro contesto no per conquistare questa lingua che significa lo svassallamento l'allontanamento dal piemonte che significa eh la libertà di stampa da conquistare eh per un giovane nobile che aveva vissuto nelle corti d'europa negli anni dei viaggi che non avrebbe potuto rinchiudersi ancora in in una regione che in una in una realtà in uno stato che eh sì certo eh a fronte di una monarchia che si definiva illuminata in realtà era fortemente costrittiva e claustrofobica per gli intellettuali è la scelta una scelta politica se vogliamo perché la lingua è lo strumento per conquistare un genere per fare una scelta di vita la letteratura conquistare un genere quello teatrale eh prospettare e delineare un percorso un una una un percorso di eh rinnovamento del teatro che è spesso sottovalutato per Alfieri perché nel teatro del settecento si guarda sempre alla eh alla alla rivoluzione tra virgolette eh promossa e compiuta da Goldoni a Venezia sul fronte comico mentre in realtà gli scritti teorici di Alfieri sul teatro guardano a un teatro eh che palestra di civiltà si si esprime ehm grazie ad attori che conoscano l'italiano che sappiano scrivere che sappiano capire quello che recitano che abbiano uno status sociale conquistato no? Quindi la lingua è funzionale a a queste eh a queste conquiste e a questo progetto che eh che è poi il progetto che sinteticamente Alfieri racchiudeva in una delle frasi più eh abusate no? Più ripetute che è quella famosa del volley che in realtà non è certo una proposta di eh non è eh solo ehm espressione di un un impegno di volontà con se stesso banalizzato no? Come molte volte succede ma che in realtà è legato eh in una lettera che è una preziosissima lettera di poetica che è legato appunto che è un'affermazione di poetica e quindi quindi da questa lingua studiata quindi perfetta se vogliamo e la sua perfezione sta nella sintesi che si esprime per esempio nelle tragedie quel verso scolpito ehm essenziale in cui c'è la massima pregnanza perché Alfieri appunto a volte la la l'oscurità quella che è confusa per oscurità in realtà è la densità di significati della parola alfieriana eh quella lingua poi a un certo punto diventa anche sì certo si parla dei neologismi degli alfierismi perché dopo averla dopo averla conquistata Alfieri la sempre di più tende a violentarla nella vita il abbiamo sì abbiamo del naturalmente un gioco anche grammaticale anche eh fonico l'uso dei superlativi dei dei maggiorativi dei dispregiativi insomma la funzione ironica la lingua stessa si piega ad esprimere l'esigenza di espressione dell'ironia ma il fenomeno poi diventerà indubbiamente macroscopico e molto evidente negli scritti satirici perché perché quello che poi affascina di Alfieri è il fatto che il cerchio si chiuda il primo scritto eh è ambientato in un non luogo nell'aldilà in una corte in cui un dio padre si attarda a bere cioccolata e giudica anime che sfilano di fronte a lui anonime ma auto accusandosi dei propri delle proprie manchevolezze l'ultima eh l'ultimo genere che Alfieri affronta quello della commedia che non ha nulla a che vedere con la commedia di Goldoni eh vede tra le altre la finestrina quindi satira feroce la penna proprio intinta nel fiele così come nelle satire che insomma eh abbracciano un lungo arco di tempo e accompagnano in parallelo tant'altra produzione di Alfieri e ehm e la lingua comunque eh appunto eh eh è violenta è addirittura violentata perché la vita è strumento così come nel misogallo così come nelle stesse satire allora è una lingua funzionale ancora una volta all'espressione di una visione del mondo che è deformata proprio perché le grandi passioni la tragedia legata era legata alle gralle espressione delle grandi passioni le grandi passioni tragiche svuotate della loro ragion d'essere lasciano il campo a quel disinganno maturato a seguito della fuga da Parigi della delusione seguita alla rivoluzione francese quindi c'è solo più la temporalità dei classici e quel non luogo di nuovo un al di là di nuovo il modello è quello ovviamente dei dialoghi di Luciano con poi tutta la tradizione rinascimentale appunto del dialogo dei morti e questa immagine all'assoluta negazione non c'è verità neanche nell'aldilà perché anzi il il qualche modo l'affacciarsi accogliere nell'interiorità dell'animo umano nel cercare nell'animo umano qualche qualche ragione d'essere no per è totalmente inutile ed è talmente anzi suona talmente a conferma dell'assoluta dello squallore negatività e del tutto da indurre a richiudere quella finestrina che era lo squarcio attraverso il quale affacciarsi appunto al di là del 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 presente e e e dell'agire quotidiano nella profondità appunto dell'animo umano e si quindi si sommano perché è la stessa situazione di nuovo un giudizio ma se il giudizio del giovane alfieri poco più che ventenne nella sua splendida casa di piazza san carlo si nutriva ancora di sdegno di bisogno di ribellione di bollore di gioventù e quindi eh sarebbe sfociato nella nell'assunzione del genere tragico in italiano per l'alfieri invece dell'età del disinganno è l'assoluta negazione quindi la lingua lo accompagna accompagna questo percorso e anche la lingua dalla conquista appassionata in qualche modo eh approda poi a a questa complessità e davvero oscurità della deformazione funzionale alla negazione ecco se vogliamo almeno mi pare di poter dire questa questa evocazione torinese mi ha fatto venire in mente un ricordo facendo l'autobiografia un ricordo torinese di molti e molti anni or sono ci fu una bella mostra fotografica sul tema della donna amata della donna ispiratrice del poeta e l'introduzione fu scritta da Brozky e Brozky e io collaborai a questa questa bella mostra e e anche partecipai alla traduzione dell'introduzione e Brozky scriveva la donna amata la Beatrice la Laura la figura amata ma in realtà per il poeta è la lingua è la lingua la vera donna amata quella che tu vuoi possedere e possedere anche con violenza quella una signora un po' attempata diceva negli anni magari però che è sempre giovane e che ritorna sempre giovane per cui quando parlavi effettivamente di del possesso della lingua e anche di una di una violenza con la lingua c'è questo rapporto della passione con quella che è davvero come dice Brozky la donna amata dal poeta mi viene in mente un'altra cosa a proposito della lingua e della appunto la passione con cui questi autori del settecento cittadini di un paese che non esisteva di un'Italia che non esisteva a partire già dal secolo precedente a partire da Galileo affermano l'esistenza di una lingua dell'italiano come lingua di cultura e come lingua di scienza non è soltanto la lingua delle ariette la lingua dell'opera è la lingua della scienza è la lingua della fisica come scrive algarotti è la lingua del mondo giuridico come scrive beccaria perché non l'hai scritto in latino dei delitti e delle pene no l'ho fatto in italiano perché l'italiano è anche la lingua del mondo giuridico ecco ci sono secondo me c'è questa questo bellissimo afflato da parte di di cittadini di vari staterelli o di di un paese che non era ancora nato per affermare la loro la grandezza di quello che hanno in comune come grande tradizione culturale da innanzitutto questo dono della lingua che hanno ricevuto da 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 quattro secoli e da molto triste mi permetto un grido al fieriano vedere quello che è molte volte l'aspetto del servaggio attuale all'inglese usato anche quando non è necessario usato per lessici per cui noi abbiamo il nostro lessico per formule che sono del tutto simili al quelle della l'uso del latino per la zecca garbugli per fare flu ecco abbiamo una splendida lingua l'abbiamo ricevuta da gente maggiore di noi non siamo un paese che ha dovuto fare delle riunioni e dei consigli per scegliere la lingua nazionale come hanno fatto altri paesi vedere questa nostra propensione all'essere servi questo vassallaggio come ha detto giustamente carla forno beh è un po' un però passiamo adesso alla invece a rallegrarci con la figura dell'alfieri e poi mi domandava appunto il centro alfieriano e poi l'opera specifica all'interno del centro alfieriano di carla forno ma anche intorno al centro alfieriano perché questa vita di vittorio alfieri esce come opera di una studiosa ma poi c'è anche tutto quello che viene avviene nel centro alfieriano in che modo viene presentato agli italiani e al mondo anche perché c'è un'opera molto importante fatta con una serie di paesi soprattutto alcuni so che sono particolarmente affezionati dalla Germania al Giappone a questa figura a questo insegnamento come quali sono per esempio ecco le ultime cose interessanti per far conoscere questo italiano così poco propenso al vassallaggio questo italiano in cui magari con caratteristiche un po' meno marmore però in cui ci piace ci è piaciuto in altri momenti come nel risorgimento identificarci cosa c'è di interessante da sottolineare adesso? Allora solo rapidamente per chi ascolta e magari non è a conoscenza della realtà di un ente per quello che riguarda la storia del centro nazionale di studio alfieriani ora fondazione che è un ente nato nel 37 e 1937 in contemporanea con quello Manzoniana Milano e Lopardiana Recanati tre grandi autori tre case tre case museo e biblioteca e archivio una vita parallela fino poi appunto a recenti decreti e alla privatizzazione la trasformazione in fondazione che però mantiene una continuità assoluta non solo giuridica ma anche ideale e di impegno sui vari fronti quello della conservazione appunto nella casa museo nell'archivio quello della ricerca scientifica ad alto livello accademico quello della divulgazione che è assolutamente fondamentale e quello editoriale e quello ovviamente che si è andato sempre più affermato affermando nel tempo anche di un'internazionalizzazione del discorso proprio perché ad esempio iniziative estremamente felici come la scuola di alta formazione che è nata nel 2006 a breve distanza dalla trasformazione in fondazione del 2004 e che in questi anni ha mantenuto la sua efficacia no e la sua anche il suo taglio di occasione per giovani post aurea ricercatori così sempre più ha visto la presenza di giovani per esempio di università di altri paesi non solo d'europa ecco è quello che al fieri due sono le considerazioni direi allora al di là di quelli che possono essere un po le chiavi di lettura stereotipate e che quindi come tali luoghi comuni anche che hanno riguardato la personalità di al fieri proprio facendo torto invece a questa sua estrema ricchezza e capacità anche di declinarsi e confrontarsi con linguaggi e generi diversi il l'alfieri al fieri soprattutto recepito con molta attenzione dal pubblico giovane dai giovani lettori è un autore che provoca molto e provoca molto le coscienze oserei dire anche nei paesi in cui e nelle situazioni in cui forse di paesi le situazioni politiche di paesi nelle quali la libertà i diritti sono stati forse più messi in discussione sto pensando al di là del rapporto felicissimo col giappone in particolare con l'università di chioto in anni in cui appunto c'era una scuola di di giovani studiosi e quindi furono quattro quelli che che vennero appunto che frequentarono asti il centro lavorarono su tesi di laurea o di dottorato legate a di argomento al fieriano per esempio la bielorussia il fatto che giovani studiose giovani ricercatrici e che già attive anche all'interno di università di minsk traducano l'alfieri dei trattati filosofico politici quindi l'alfieri che parla di tirannide come poter assoluto perché ogni monarchia assoluta al di là del modello eh londinese no legato all'anglo filia anglomania dell'epoca per al fieri ogni monarchia assoluta era di per sé tirannide ci sono pagine veramente eh che sono illuminanti e incisive di una chiarezza eh che non ha epoca di scrittura ecco che quell'alfieri o l'alfieri che indaga sul rapporto tra potere tra eh letterati tra intellettuali e potere sia tradotto non so a minsk oppure coinvolga studiosi eh dell'università argentini dell'universo di rapporto con l'università di buenos aires da qualche anno a questa parte è molto intenso ed è molto attivo si è tradotto anche nella presenza appunto ho avuto anche ho avuto comunque direttamente queste esperienze sia tenendo lezioni all'università di misc sia anche a buenos aires a cordova in un ehm nel contesto di un convegno eh nel quale appunto ci fu spazio e molta attenzione per al fieri sappiamo la la storia eh travagliata no della della e le lotte per la per la per la democrazia eh in Argentina ecco è un autore che io appunto oso dire in qualche modo e qui forse sta anche in questo proprio per questo forse un classico impossibile non comprenderlo eh decontestualizzandolo perché è un uomo assolutamente del suo tempo è un giovane del suo tempo anzi anzi il nuovo Alfieri cioè Alfieri avrebbe letto proprio spogliato di quelle di quello che la ha un po' cristalli di tutto ciò che ha un po' cristallizzato la sua immagine nella dimensione del poeta Vate il giovane Alfieri legge eh vive rapporti amorosi che sono reti passioni ma che sono anche insomma rispondono a quelli che sono i riti della sociabilità settecentesca certo che Alfieri condannerà il cicisbeismo ma quel giovane Alfieri che passava il suo tempo seduto su una poltroncina accanto alla appunto all'odiosa amata signora che cosa poteva essere se non in realtà molto simile a un giovane signore o a uno dei personaggi di un'altra sua commedia al divorzio ecco quindi Alfieri è uomo del suo tempo però Alfieri anche tocca temi come la degenerazione del potere come la violenza come il rapporto tra intellettuale e potere che forse proprio in paesi in cui ehm è stato più sofferto nella storia eh nel corso appunto del novecento e la conquista la difesa di questi valori eh appunto in questi paesi Alfieri ehm riceve particolare attenzione no? Quindi direi che il compito del centro è stato quello in questi anni sicuramente di allargare quest'orbita poi per esempio molto intenso e costante è stato il rapporto con la Humboldt di Berlino quindi con giovani con giovani ehm appunto che frequentavano l'università tedesca e Potsdam però sicuramente anche con questa particolare caratteristica per eh circa le traduzioni sia in questi due mondi che in qualche modo eh sono speculari anche se lontani e diversi della Bielorussia e dell'Argentina poi c'è un'altra un'altra dimensione ovviamente che non va trascurata è quella teatrale perché è evidente che Alfieri eh scrive insomma autore di teatro che però leggeva nei circoli di amici o nelle accademie eh le proprie opere e che soprattutto si poneva una un interrogativo fondamentale con la consueta diciamo capacità di sintesi le parole si vedono L o si ascoltano adesso cito abbraccio eh la parola la parola letteraria si vede si legge è contenuta nel perimetro di un margine di una pagina no? E risuona dentro di noi per carità però per lo più la lettura la lettura ritorna lo sguardo ritorna ed è una lettura silenziosa per lo più ma il teatro no il teatro la parola teatrale è lì lo scarto è lì il passaggio tra il testo scritto la pubblicazione anche delle tragedie e la vita in scena perché poi la parola teatrale ha bisogno di fiato di respiro di gesto di volto no? Quindi dell'attore e l'Alfieri eh appunto non dimentichiamo che Alfieri stesso non solo recitò Palazzo Gianfigliazzi nelle sue stanze oppure ospite nel teatrino di amici come a Pisa stupendo durante la luminaria sul lungarno eh e l'Alfieri che che dopo aver impersonato l'ultimo Saul per l'ultima volta il suo ultimo Saul comunque si affaccia a guardare i lungarni illuminati appunto eh di di Pisa durante le le feste della 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 città del di San Ranieri ma ma l'Alfieri che calca il palcoscenico l'Alfieri che viene descritto dai contemporanei con questa sua anche dagli attori insomma che in qualche modo condividevano la scena con lui no? Con questa sua con questa sua personalissima ehm capacità di interpretazione che nelle lettere molte volte ritorna eh addirittura vagheggia se fossi più giovane potessi forse chissà creerei una mia compagnia e allora non si può eh l'attenzione certo ci furono anni decenni nei quali al centro fu possibile direttamente proprio contribuire all'allestimento parlo soprattutto degli anni cinquanta ancora prima degli anni sessanta anni felicissimi perché negli anni cinquanta decollò l'edizione nazionale e se noi spogliamo appunto le le facciamo uno spoglio delle schede degli allestimenti teatrali vediamo che negli anni cinquanta con i grandi attori del teatro del novecento che allora erano giovani non erano ancora grandi attori eh poi ehm ovviamente molta difficoltà eh rare occasioni però anche in questo caso al di là appunto di alcuni grandi quindi di alcuni allestimenti che hanno fatto epoca eh diciamo che ci sono giovani compagnie o compagnie di giovani di giovani attori ma professionisti quindi al di là così appunto della buona volontà ehm magari di di altre esperienze meno insomma come dire nelle alle quali manca forse a volte quello quello che è il lavoro streno al fieriano eh di studio del verso che quindi è quello che impone ovviamente molto studio e molta e molta molta disciplina da parte dell'autora attori professionisti che hanno che si sono cimentati negli ultimi anni penso per esempio a una compagnia che ha radici anche astigiane legata a una fondazione la fondazione a comazzo per il per il teatro ehm che ha messo in scena un antigone per esempio che ha avuto oltre ha avuto una cinquantina di repliche visto che i numeri sempre insomma eh ci parlano ci dicono qualcosa a fronte di tanti spettacoli che nascono e muoiono un allestimento di alfieri che dal Piemonte alla Puglia abbia avuto in teatri anche affermati e presso scuole università accoglienza indubbiamente ci fa riflettere l'ultimo esperimento mi tocca molto da vicino perché è nato diciamo dalla dal lavoro relativo alla curatela della della vita è nata per per Feltrinelli ed è una un testo drammaturgico un dialogo tra alfieri e alcune delle figure fondamentali appunto della dell'autobiografia la madre il servelia a cui io personalmente sono molto legata perché è un doppio di alfieri quindi è un è un personaggio importante ed è un doppio di alfieri nella vita ma è anche un personaggio molto sfaccettato perché abbiamo un altro Elia nell'epistolario in più abbiamo le lettere di Elia quindi insomma un personaggio indubbiamente interessante e poi le donne amate da Penelope Pitt l'amore londinese a Luisa Stolberg appunto il degno amore costruito un po' sulla corta appunto e sull'onda della della curatela ponendo molto a confronto le pagine della vita con altre fonti in modo da avere appunto quella porre in evidenza proprio quella doppia realtà da una parte la realtà del vissuto la vita la vita con la b maiuscola e dall'altra parte l'altra realtà quella della letteratura senza la quale saremo tutti più poveri oserei dire io sono molto contenta di questa conversazione e spero che anche Carla Forno io sono molto contenta posso augurare all'opera di alfieri tutta la vita questa ultima edizione ma alla conoscenza di tutta la sua opera che sia sempre più diffusa penso che sia qualcosa che ci fa bene anche e all'opera del centro di riuscire a dare sempre più forza alla conoscenza dell'alfieri grazie io ringrazio la professoressa giaveri ovviamente l'accademia delle scienze per l'ospitalità e buona lettura a tutti grazie grazie ancora grazie mille Grazie a tutti